La penna stilografica Nella forma che tutti noi oggi conosciamo Si fa risalire al 1883 Quando Lewis Waterman inventò il primo modello Veramente funzionante e affidabile Di penna stilografica Con un sistema di caricamento dell'inchiostro a contagocce Si dovette attendere il 1929 Per avere un altro importante sviluppo della penna Il caricamento a stantuffo per l'inchiostro Fu la Pelican a inventarlo Del 1936 è invece l'invenzione della cartuccia E la si deve alla filiale francese della Waterman Agli inizi degli anni 50 Arrivarono le penne a sfera Anche la penna a sfera ha una storia interessante Il principio di funzionamento è in sé semplice Un tubo sottile riempito di inchiostro Con la sommità bloccata da una piccola sfera Quest'ultima è montata in modo tale da non poter scivolare dentro il tubo E nello stesso tempo da non poter fuoriuscire dalla penna Quando la punta della penna viene fatta scorrere sulla carta La pallina, girando, trascina con sé l'inchiostro Scrivendo così sulla carta Il meccanismo a sfera fu inventato già nel 1888 Da John J. Loud, un conciatore di pelli Ma la nascita della penna a sfera è datata 1938 Ed è legata a Laszlo Biro, un giornalista ungherese Biro, aiutato dal fratello che era un chimico Sviluppò un inchiostro speciale con una viscosità ottimale La prima penna a sfera di Laszlo Biro Fu venduta a New York nel 1945 A 12 dollari e 50 centesimi Ebbe successo anche in Argentina Dove in onore del suo inventore Fu chiamata Biro L'esploat commerciale però Si ebbe in Europa Quando Biro cedette i diritti a Marcel Bic Un barone francese di origine italiana Bic nacque a Torino E oggi, nella casa dove nacque C'è una targa che lo ricorda Bic perfezionò il progetto E nel 1950 A 5 anni dalla creazione della sua azienda Immise sul mercato la prima penna Bic Crystal Laszlo Biro, invece Fece parte della categoria degli inventori sfortunati Morì povero a Buenos Aires nel 1985 E adesso una curiosità Perché nel nome della penna è stata tolta la H Che è invece presente nel nome del suo inventore Il motivo è che in inglese Quella H finale Avrebbe potuto indurre a una pronuncia sbagliata del nome Troppo simile al termine inglese Beach Che significa sgualdrina Ecco perché l'azienda E il prodotto principale di Marcel Bic Persero quell'H finale Il prodotto